Ho pubblicato una serie di notizie che sono vere e non sono state smentite dal Vaticano, che riguardano scandali economici e finanziari molto gravi e che sono di interesse di tutti noi. Tra le più importanti c'è sicuramente la Banca Vaticana, la Banca Vaticana, lo Yord, che Papa Francesco voleva chiudere per esempio e che è finita troppe volte negli anni scorsi in una serie di scandali molto gravi, soprattutto il riciclaggio di dinero sporco da parte della criminalità o da parte di evasori fiscali. Lì ci sono quasi 6 miliardi di euro, di cui uno di proprietà della Santa Sede e 5 di clienti che si appoggiano direttamente alla Banca Vaticana. Papa Francesco aveva detto che non lo chiudeva perché voleva aiutare per esempio attraverso lo Yord, le diocesi più povere nel mondo, dei paesi in via di sviluppo, in Asia, in Sud America, in Africa, invece ho scoperto che negli ultimi due anni, nel 2015 e nel 2014, su 100 milioni guadagnati di utile, la Banca Vaticana ha restituito in un fondo per le emissioni all'estero solo 17 mila euro. Tutto il resto serve al Vaticano, ai ministeri del Vaticano e ai cardinali. Un altro fondo molto importante si chiama Ovolo di San Pietro, che è un'elargizione che i fedeli di tutto il mondo fanno direttamente al Papa. Era un po' scesa su Benedetto XVI, che non era un Papa molto mediatico, invece con Francesco arriva di nuovo a 70-80 milioni di euro l'anno e quest'obolo lo chiedono perché dicono che aiutano gli ultimi, no? E invece io ho scoperto da queste carte che sono riuscito a ottenere che al fine anno non è vero che arriva a zero, perché vuol dire che tutti i soldi sarebbero stati spesi. Questo Ovolo di San Pietro è nascosto in alcuni conti della Banca Vaticana e dell'Apsa, è gestito direttamente dalla segreteria di Stato ed è arrivato quasi a 400 milioni di euro che vengono investiti sui mercati internazionali, fanno dei guadagni e non danno mai i soldi ai poveri o a che bisogno, le vittime di guerra, ma vengono sempre spesi per necessità interne del Vaticano. Campaia Anual del Ovolo di San Pedro La fe despierta nostro compromiso con los demás Colaboremos con il Papa in questa labor di lavorare per le sovra di la Iglesia Universal e i più necessitati. Il 3 di Julio, hagi la donazione su parroquia o consigne la vivienda, cuenta di ahorro, 0145-42872, a nomi della Anunciatura Apostolica. La fe despierta nostra solidarietà. Altro grande bacino di guadagni è il business sanitario degli ospedali. Lì, per esempio, la Chiesa italiana possiede migliaia di cliniche, il Vaticano possiede 3-4 ospedali molto importanti che vengono finanziati dallo Stato italiano. Il Bambin Gesù viene finanziato con 220 milioni di euro l'anno, ma non tutti questi soldi vengono spesi dal Vaticano per il Bambin Gesù. Vengono conservati, messi su alcuni conti correnti dell'Apsa o dello IOR e ho scoperto che questi soldi servivano a finanziare gli acquisti di azioni sui mercati internazionali come la Exxon, la Down Chemical, la Pepsi Cola, per esempio. Ho anche scoperto che una fondazione all'interno di questo ospedale, che avrebbe dovuto aiutare i bambini malati, ha invece dato 420 mila euro all'ex segretario di Stato, Tarcisio Bertone, per ristrutturare il suo appartamento da 300 metri quadrati e questo ovviamente ha fatto molto scandalo in tutto il mondo. Questi soldi o parte di questi soldi siano stati utilizzati non solo per ristrutturare la casa di Bertone, ma anche per fare delle feste, dei concerti, oppure per pagare l'affitto di una serie di elicotteri che portavano i cardinali da una parte all'altra dell'Italia. La notizia dei soldi dell'ospedale finiti nella ristrutturazione dell'attico era uscita nel libro Avarizia di Emiliano Fittipaldi in seguito alla rivelazione. Quasi l'80% degli italiani, quando fa la dichiarazione dei redditi, dà alla Chiesa italiana, che guadagna un miliardo di euro l'anno. La Chiesa dice datelo a noi perché noi con questi soldi possiamo aiutare gli ultimi, possiamo aiutare i poveri, possiamo aiutare i paesi del terzo mondo, i poveri africani, i profughi. In realtà su un miliardo 800 milioni va direttamente per lo stipendio dei sacerdoti, per le questioni economiche delle diocesi, per i tribunali ecclesiastici, per i corsi di catechismo. soltanto il 20% del totale finisce in reale beneficenza. Il meccanismo della Fabbrica dei Santi è uno degli scandali più grandi che ho trovato nelle carte della Commissione Pontificia e nella Prefettura degli Affari Economici. Perché io pensavo che per diventare beato o diventare santo bastava aver fatto dei miracoli e che il percorso era gratuito, no? E invece non è così. Per fare un santo le congregazioni religiose o anche i parenti del candidato devono spendere 100, 200, 400, anche 500 mila euro. Ovviamente chi ha più soldi, chi guadagna di più, riesce a far diventare santo il suo candidato. Le congregazioni più povere, come quelle sudamericane per esempio, fanno molta più fatica, no? Perché non hanno le lobby economiche che riescono a fare questo. Perché costa così tanto? Perché il Vaticano chiede una serie di tasse e soprattutto i postulatori, che sono degli avvocati che devono trovare i miracoli, che sono postulatori molto vicini al Vaticano, chiedono decine di migliaia di euro l'anno per le loro ricerche. E soprattutto i postulatori più bravi, che sono quelli che hanno rapporti migliori con la Santa Sede, sono pochi e costano moltissimi soldi. È come una piccola mafia. Quando era arrivato Mussolini si è riuscito a fare un accordo in cui è nato lo stato della città del Vaticano, che prima non esisteva, e il Vaticano ha riconosciuto l'Italia. Il problema è che questi accordi non sono mai cambiati. Ci sono ancora dei vantaggi molto importanti che il Vaticano può avere. Per esempio, non paga le tasse anche sugli immobili che creano ricchezza, come gli alberghi, per esempio, come i negozi. Non pagano l'Imu, non pagano l'età. Questo non è accettabile. E la politica italiana non riesce a cambiare e a eliminare questi favoritismi. Il patrimonio immobiliare del Vaticano vale 4 miliardi di euro. 4 miliardi di euro. Ci sono 5.000 appartamenti, uno più uno meno a Roma. Ce ne sono a Parigi. Negli appartamenti del Vaticano ha vissuto anche Mitterrand, l'ex presidente francese. A Londra, per esempio, in New Bond Street, che è una delle vie più centrali, ci sono molti appartamenti del Vaticano. Il Vaticano controlla una serie di società svizzere che posseggono molti immobili in Svizzera e nel resto d'Europa. Insomma, è un patrimonio sconfinato che inizia a partire dal 1929, perché quando il regime fascista firma i trattati lateranensi con la Chiesa, la Chiesa riceve anche un ricco indennizzo. E questi soldi vengono investiti subito all'estero, in Svizzera, a Londra. Vengono portati via dall'Italia e vengono acquistate moltissime case. Anche in America sono stati comprati molti appartamenti, poi dopo lo scandalo della pedofilia americana sono dovuti essere venduti per risarcire le vittime. Autore dei sottotitoli e revisione a cura di QTSS Grazie.